Comunque, questa è la famosa torta che tagliate. Buona, 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 facciamo il botto, uff, questo è l'Abrusco di Gianna. Ma dove arriva questa torta? Dall'Apenino Modenese. E va mangiando con l'Abrusco. Buono l'Abrusco. E' buona. Che passa di mandorle. Un po' di sassolino, licore. Licore di Sassuolo. Buona, buona. Buona, eh? Ne piace moltissimo. E fa pasteggiato. Un'Abrusco.